Fabio Coda molto amareggiato e non può essere altrimenti l'Ischia per tutta la partita è stata a contatto della Lazio nel quarto periodo riesce anche a passare in vantaggio poi un break 2 a 0 e i capitolini si impongono 10 a 9 che partita è stata? Che partita è stata? Purtroppo quando si perdono le partite sono sempre bruttissime è tutta colpa mia, è colpa mia io evidentemente non riesco a mandare messaggi giusti alla squadra forse non gli trasmetto troppo carattere, mi assumo io tutta la responsabilità non so che dire, oltre non posso andare Mancanza di carattere dici quello che è mancato oggi all'Ischia? Assolutamente sì, mancanza di carattere Hai avuto anche il time out a disposizione a 50 secondi dalla fine c'era l'opportunità con l'uomo in più di costruire l'ultima occasione però non siete neanche riusciti ad arrivare alla conclusione Esatto, è questo che ti dico, neanche il tentativo di tirarla fuori o di tirarla addosso, siamo rimasti con la palla in mano questo ti fa capire l'insicurezza, quindi non lo so, dovrò prendere sicuramente dei provvedimenti Senti Fabio, c'è anche da dire però che oggi mancava un elemento importantissimo come Caid che proprio in fase realizzativa fa sempre sentire la sua presenza influenzato, ha pesato l'assenza Assolutamente sì, al 90% ha pesato perché Caid sicuramente sull'uomo in più teneva la sua, diceva sicuramente la sua non ti dico tutti ma il 50% se vedi sono tutti i gol di Caid sull'uomo in più Senti, un'ultima domanda adesso ci sono tre partite fondamentali perché Ancona, Pescara, Latina, tutte squadre vicine a voi in classifica la salvezza si gioca qui? Sì, assolutamente ma se non calciano gli attributi cadiamo sicuramente